Si è tenuta a Catona l'inaugurazione dell'impianto di microfiltrazione dell'acqua donato da Plastic Free all'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona. La donazione da parte dell'Associazione sugelle il progetto di sensibilizzazione Plastic Free nelle scuole portato avanti dall'Istituto nell'anno scolastico 2021-2022 fino ad oggi. Il successo del progetto è stato possibile grazie all'impegno della scuola e alla forte e attiva collaborazione della dirigente scolastica, l'avvocato Simona Sapone, dei docenti responsabili del progetto Ambiente e Salute dell'Istituto che hanno guidato il percorso affiancando Plastic Free in tutte le tappe. Quello installato all'Istituto Comprensivo è il primo depuratore che Plastic Free dona nella provincia di Reggio Calabria, simbolo del riconoscimento dell'impegno e della disponibilità dell'Istituto. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza della dirigente scolastica, dei docenti e degli studenti di tutte le fasi cedità durante l'open day della scuola. L'evento segna la conclusione di un progetto percorso triennale di sensibilizzazione, la fine di un ciclo insomma che è anche il preludio di un nuovo percorso che vedrà ancora l'Istituto e l'Associazione insieme per il bene del pianeta.